La prima e la quarta della classifica saranno protagonisti di quello che si preannuncia un incontro scoppiettante. Staremo a vedere se la squadra che guida attualmente il campionato saprà imporsi o se dovrà arrendersi agli avversari. Palla al compagno, si spintonano per recuperare la palla. Si fa sotto, tiro incredibile al lato di pochino. Si contendono il controllo del pallone, scarica sul compagno. Siriano. Giù Shack. Grande tiro! Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Passaggio riuscito. Non riesce a bloccare! Gli attaccanti tentano di conquistare palla. Rete! Splendida rete! Un gol da manuale. Gran merito del gol va dato all'autore del passaggio. Ha dimostrato una visione di gioco. Passaggio intercettato. C'è nulla da fare, palla che esce. C'è Canovarchi nella difesa avversaria. Palla al compagno. Ottima occasione! E ha segnato un pareggio meritatissimo! E anche questa volta non ha sbagliato. Ha un grande talento e fa sembrare tutto facile. C'è nulla da fare. C'è nulla da fare. C'è nulla da fare. Zirkoff. Gioco di passaggi. C'è nulla da fare. Riescono a chiudere. Sembrava più pericoloso questa cross. Ha spazio per tirare! Palla intercettata. Potrebbe cruzzare. Giù Jack! Una gran bella rete. Sono passati in vantaggio. Pregge questo tecnico. Si è un gol molto ben realizzato. Calciato bene. Puntando e trovando l'angolo. È uno dei primiี. Grazie a tutti